Giro d'Italia Una impressione straordinaria, un entusiasmo incredibile da parte di tutti un grandissimo successo di immagine per la nostra città e per tutta l'area Flegrea una bellissima accoglienza da parte dell'agenza, tanti entusiasmi in un momento ancora difficile a vedere tante famiglie, tanti bambini, tanti appassionati, tanti appassionati di ciclismo che stanno insieme in piazza e festeggiano i loro beniamini è veramente una sensazione molto positiva in una Napoli bellissima, oggi Napoli è veramente straordinaria e tutte le persone che sono venute da fuori sono rimaste incantate della bellezza della nostra città che dobbiamo sempre più valorizzare e proteggere